Per le nostre automobili è arrivata l'ora di indossare per così dire il vestito dei mesi freddi. Da domani infatti scatta l'obbligo di pneumatici invernali o di catene da neve a bordo veicolo. Durerà sino al 15 aprile 2025. Sono esenti dall'obbligo le auto dotate di gomme all season purché riportino il simbolo M più S. I ciclomotori e i motocicli che possono circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto, in assenza di neve o ghiaccio su strada. E' opportuno ricordare che l'obbligo di pneumatici invernali vale soltanto nei tratti nei quali il gestore o ente proprietario della strada, regione, provincia o comune abbia prescritto un'ordinanza specifica. Di conseguenza è bene fare attenzione ai cartelli e alle norme previste da ogni singolo territorio. Signor Dino questa giornata è riservata diciamo così ai ritardatari. Praticamente sì, considerando che l'obbligo di legge per le dotazioni invernali scatta il 15 di novembre, quindi siamo proprio agli sgoccioli. Però causa temperature elevate, tanti nostri clienti e tante persone naturalmente hanno ritardato questo cambio e per cui stiamo facendo le ultime macchine. Quali sono i vantaggi? Cioè con le gomme invernali praticamente si riduce lo spazio di frenata in caso di pioggia, di neve e ghiaccio. Praticamente sì, perché lo pneumatico invernale è strutturato proprio per camminare con le basse temperature e per dare la massima aderenza in queste condizioni difficili del fondo stradale. Quindi giustamente in pieno inverno con le temperature basse, con la neve e nevischio abbiamo un'aderenza di gran lunga superiore. Le gomme quattro stagioni? Sono delle gomme tra virgolette ibride, però considerando i cambiamenti climatici in questo periodo sono molto utili perché naturalmente non abbiamo più quelle nevicate eccessive di una volta e aiutano il fatto che possono adattarsi a tutte le condizioni meteo. L'unica cosa che hanno un po' contro le quattro stagioni sono le temperature elevatissime d'estate per cui con un chilometro eccessivo si possono un po' logorare, ma altrimenti hanno una buona tenuta di strada ed evitano all'utente finale il doppio cambio invernale estivo, anche con un risparmio economico non indifferente. Quindi dall'alto della sua esperienza Dino consiglia le gomme invernali? Sicuramente sono consigliate, assolutamente. Poi ritorno sempre al concetto che bisogna vedere, anche i percorsi che naturalmente questa macchina fa perché ad esempio un'auto che cammina in alta montagna ha sicuramente bisogno di gomme invernali. Un'auto che cammina nella zona di Chieta e Pescara può anche usare delle quattro stagioni. Ci spiega e chiudiamo, che cos'è la calza? Sostituisce la catena e come una cuffia, come un cappellino che viene messo sulla gomma e questo dà la possibilità naturalmente alle persone poco esperte di poter montare nel caso le gomme invernali o le gomme che hanno sotto non reggono questa calza che ha una tenuta di strada naturalmente in condizioni di neve e di ghiaccio molto efficace. L'unica cosa è che la calza deve camminare a non più di 50 km orari altrimenti si strappa.